Con la pesce di Martino insieme alla Lavanoni, Toy Boy, 8 e 32 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano e anche ricordiamo che siamo in diretta anche su Milano All News, potete quindi anche vederci ma soprattutto vedere chi? Paolo Romano, consigliere in regione Lombardia, quota PD, buongiorno consigliere e abbiamo letto, partiamo subito dalla vicenda del CPR perché prima abbiamo letto la notizia Cosa avete visto ieri quando siete entrati? Ieri con Pierfrancesco Maiorino siamo entrati nel centro per il rimpatrio, i CPR così più noti di Milano in Via Corelli dove da poco come sapete è scoppiato un caos mediatico giudiziario importante Meno male, perché si è finalmente scoperchiato il vaso di Pandora e si parla di migranti a cui venivano somministrati pasti ammuffiti e altre violazioni dei diritti umani Ciò che ci ha molto colpito è che la realtà, la cooperativa che gestisce quel centro è in realtà rimasta la stessa nonostante l'apertura delle indagini Romano, tu prima mi dicevi appunto che sei entrato e ti sei ritratto e ti sei ritratto dicendo ma come sei ancora qua a lavorare? Assolutamente Non è cambiato nulla quindi Non è cambiato assolutamente niente e rimangono il luogo che abbiamo conosciuto nei tanti sopralluoghi di questi mesi un non luogo che ha una caratteristica molto grave, ha delle condizioni peggiori del carcere ma tu non sei reo di aver commesso il reato Ricordiamo che è un reato amministrativo, in realtà un illecito amministrativo Per cui molti di loro che magari alcuni di loro avevano avuto precedenti esperienze in carcere dicevano ma io in carcere se i miei familiari mi dovevano mandare dei vestiti mi mandavano un pacco qua devono attraversare mezza Italia e presentarsi altrimenti non si può consegnare niente ma io in carcere avevo le attività, stavo rimparando un lavoro qua non posso fare nulla la mattina e la sera cioè di fatto preferirebbero essere messi in carcere questo è il punto a cui abbiamo portato i diritti con i CPR e aggiungo una cosa, per chi non condividesse la sensibilità sui diritti umani tra l'altro non funzionano perché anche nel CPR di Milano, a loro detta ieri più della metà delle persone che vi entrano non vengono rimpatriate e dopo tre mesi in cui vengono recluse in maniera assurda vengono poi lasciate libere pensate tra l'altro con che bomba sociale perché prendete uno di noi tre, mettimi tre mesi chiuso in una stanza con i miei diritti violati senza che io abbia compiuto un reato e poi rimettimi fuori in società penso tendenzialmente che non saremmo esattamente sereni e felici quindi un fallimento su tutti i fronti vengono presi in ostaggio potremmo dire per una propaganda che non serve a niente alla fine perché non porta niente nessuno ma neanche la propaganda stessa non porta nulla neanche la propaganda stessa è questo che mi sconvolge sempre dei CPR e io ricordo sempre teniamo gli occhi ben aperti su questa cosa perché lo trovo veramente assurdo che a Milano nel 2023 esista un luogo del genere mi auguro che appunto adesso con molti in più non solo Romano ma molti in più appunto stanno parlando e visitando e guardando e raccontando quello che succede all'interno speriamo che insomma qualcosa possa cambiare o che almeno appunto si riventa un attimino tutto quello che è quel sistema lì esatto e intanto ci colleghiamo anche a un discorso che abbiamo fatto ieri perché ieri ai nostri microfoni c'era Federica Valcauda di associazione Enzo Tortola Radicali Milano e ho visto che tra la gente a Roma c'era anche te con il cartello con scritto io coltivo sì ho preso un treno molto presto perché volevo esserci perché la grande secondo me il tema della legalizzazione della cannabis lo dico per chi ci ascolta è la grande ipocrisia la grande presa in giro italiana un paese in cui abbiamo centinaia se non migliaia di morti nelle strade per tasso alcolemico ogni anno e in cui invece non ci si può fare una canna lasciando tra l'altro un mercato stimato da studi molto approfonditi in 6 miliardi di euro in Italia solo per la cannabis in mano alle mafie in mano alle mafie che vuol dire che noi stiamo finanziando tutto ciò che contrasta lo Stato pensate che il gettito se si legalizzasse la cannabis e la tissa si tassasse varia tra i 3 e i 5 miliardi di euro di tasse che potrebbero entrare nello cartello dello Stato che vorrebbe dire educazione e sensibilizzazione alle dipendenze a scuola che vorrebbe dire opere pubbliche che vorrebbe dire finanziare l'istruzione i servizi per le famiglie perché poi sappiamo che molto spesso le dipendenze sono legate anche a delle difficoltà di contesto familiare e invece no e invece sulla cannabis si racconta di tutto anche cose che scientificamente non sono vere e dal punto di vista politico il PD può essere d'accordo su questo perché sappiamo benissimo che all'interno dello stesso PD nazionale e chiedo a te anche conferma su quello regionale c'è una divisione sul tema è bello svegliarsi alle 8 e mezza del mattino con queste domande le domande sul PD ormai sono parte della mia frustrazione quotidiana non male da un iscritto al partito ci sono ovviamente posizioni diverse che è anche una cosa molto bella del PD che si chiama pluralismo ma c'è anche il fatto che si chiama partito democratico perché poi noi decidiamo in maniera democratica e in democrazia chi ha la maggioranza porta avanti la linea a nome di tutte e di tutti Ellis Line ha vinto un congresso nazionale dentro il programma di Ellis Line c'era la legalizzazione delle droghe leggere quindi direi che la posizione del PD in questo caso almeno dal febbraio del 23 ad oggi è molto molto chiara ecco forse non è così chiaro a chi vi si cercate di dirlo come diceva Moretti lo nomino spesso ultimamente dite qualcosa di sinistra a questo punto perché con una segretaria così è anche facile mi viene da dire fatelo però perché forse c'è qualcuno a casa che si è un attimo perso ieri si diceva se non ora quando che c'è il partito ci parlavamo solo a slogan intanto lo diciamo a Good Morning Milano il PD sostiene la legalizzazione della cannabis e la proposta di legge io coltivo che siamo andati a lanciare in piazza Roma tra l'altro con una piccola parentesi simpatica che non so se avete colto che ci hanno schedati tutti cioè eravamo 30-40 persone tranquillone tranquillissime con dei cartelli in mano davanti al Parlamento nella stessa piazza in cui due o tre anni fa Salvini faceva un commizio da 800 persone non autorizzato ci hanno schedati tutti io stesso ho dovuto dare il documento e essere identificato quando ho chiesto perché mi è stato detto regolare procedura amministrativa è andato anche bene considerando che c'era Maggi tra voi in piazza e l'ultima volta che Maggi è stato in piazza con un cartello non è finita benissimo per la vicinale carne sintetica sappiamo bene eccola quindi vai i temi sono tanti anche tornando invece alla nostra quotidianità c'è di mezzo un bilancio che tra poco dovete cercare di approvare giusto in Regione finito qui andrò in Regione per il dibattimento del bilancio che durerà lo anticipiamo anche alla maggioranza tanti giorni questa volta fasi una telefonata prima perché in comune stanno facendo il contrario cioè quella maggioranza che tu adesso vuoi fare la notte in Regione ha fatto fare la notte in comune ai tuoi amici 9.000 emendamenti ai tuoi amici a Bottelli a Gaia Romani che sono tutti i tuoi amici 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 sono passati poi sul tardissimo a casa mia ieri sera vedi però c'è una piccolissima differenza la Lombardia ha 10.000 abitanti in Europa sarebbe uno stato di medie e medie dimensioni con un'economia anche abbastanza importante se io vi dicessi che in uno stato di medie dimensioni di 10 milioni di abitanti in Europa viene tagliato linearmente il 19,5% della spesa su tutti i capitoli tranne la sanità e le politiche sociali voi cosa mi direste? così non va bene rivoluzione in piazza scende la gente con i forconi tagliano sui trasporti tagliano sull'istruzione tagliano sul lavoro ragazzi Regione Lombardia presenta un bilancio con un taglio lineare sulle risorse proprie del 19,5% su tutti i capitoli di spesa perché ha fatto troppi debiti con la legge 9 che qualcuno che allungi da me farlo chiamerebbe la mancetta elettorale prima delle elezioni cioè una legge con cui negli ultimi due anni di governo hanno distribuito soldi a pioggia ai comuni specialmente amministrati dal centro-destra per fare opere pubbliche si sono accorti che gliene hanno dati o promessi per i prossimi anni quindi impegnati per i prossimi anni troppi e hanno detto su tutte le fonti di spesa noi dobbiamo tagliare il 19,5% questa cosa non si sa però sono opere che bisognerà fare perché una regione comunque ha bisogno di opere ha bisogno di fare cose sono spesa corrente faccio un esempio stupido la regione si occupa delle borse di studio quest'anno le borse di studio costeranno 12 milioni di euro in più perché vengono adeguate all'inflazione la regione decide di mettere 9 milioni di euro in meno ora la matematica per me è abbastanza semplice 21 milioni di euro di borse di studio vuol dire decine decine di migliaia di ragazze e ragazzi che avrebbero diritto perché sono idonei quindi hanno il merito hanno il reddito basso eccetera per chiedere una borse di studio e non la ricevono beh andiamo avanti dopo una canzoncina ok così ci pensiamo ci pensiamo dopo un pezzone così ci pensiamo un attimo riflettete riflettete gente riflettete ok Rino Gaetano con Gianna qui alle 8.41 su Crystal Radio Good Morning Milano Gianna con Rino Gaetano no scusate Rino Gaetano con Gianna non era Gianna con Giaetano ho letto al contrario scusatemi ma perché stavamo parlando appunto fuori onda un po' qui con il nostro ospite stiamo parlando di consiglio regionale di regione un mondo che effettivamente è poco conosciuto no da gente perché controlla magari più quello che si deve al comune vede fa disfa ci litiga anche più più di persona vado lì si parla per ore della ciclabile in Corso Monforte ci sono quelle cose che comunque chiamano il dibattito mentre la regione è più complicata Roma ladrona quindi quella è più facile sempre chiunque sta là è più facile anche incassarsi con chi sta là la regione effettivamente però insomma il bilancio diciamo quanti miliardi stiamo parlando di più o meno 30 miliardi di euro 30 miliardi di euro cioè capito metà del chi è che adesso era il più ricco del mondo aveva un quarto non c'è un bar di neanche però vabbè pensa a te comunque questo è il primo bilancio che approvi tu a cui lavori l'approvazione in cosa ti aspetti come sta diciamo è un mondo strano la regione la stragrande maggioranza del bilancio è sulla sanità che è la competenza principale di regione cioè le regioni decidono praticamente tutto sulla sanità tranne alcuni cornici livelli di assistenza dati dallo Stato e quindi sì quando non trovate posto nel ospedale pubblico per la visita ma c'è a 250 euro nell'ospedale privato è perché l'ha deciso la regione Lombardia dando più risorse ai privati che al pubblico ci tengo a stolinearlo e no è stato un anno interessante un anno alienante perché è un luogo come dicevi tu molto lontano spesso dai cittadini e bisogna provare a portarlo vicino perché poi fa cose che riguardano i cittadini abbiamo parlato di sanità ma pensate il trasporto Trenord è gestita ed è di proprietà di regione Lombardia come è andata adesso questa cosa di Trenord che avete ridato il mandato gli hanno ridato guarda noi eravamo assolutamente contrari 10 anni senza gara sì ma perché quando una cosa funziona bene è come Trenord che hai proprio questi treni nuovi puntuali sempre in orario che entrano tutti nelle gallerie tutti tra l'altro ma anche da cimetti la notizia è vera hanno comprato dei treni che non entrano nelle gallerie che non possono essere usati su quella tratta è straordinario e quando funziona tutto così bene perché non rinnovarlo senza gara quindi senza neanche la competizione per altri 10 anni aumentando il compenso questo è il magico mondo e l'inflazione vanno adeguato all'inflazione immagino giusto è quello e col rischio che l'Europa poi ovviamente che dice non è che dice sono brutta e cattiva dice se affidate un sacco di soldi pubblici per fare qualcosa fate una gara d'appalto in modo che vediamo chi fa l'offerta migliore e noi non li abbiamo ascoltati neanche stavolta ma poi le gare d'appalto vanno a ribasso si spende meno come funziona? metti i paletti vuoi che lo stipendio minimo di un ferroviario tra l'altro sia questo vuoi che il numero minimo di corse sia quello e poi ti offrono il servizio a quel punto detto ciò la cosa più divertente di questi stavo dicendo ci salverai qualcosa però due cose uno essere riuscito a lavorare anche con la maggioranza su una mozione per chiedere che le caserme abbandonate diventino studentati che è una cosa a cui tengo molto che siamo riusciti a fare passare e due avere portato una zucca di Halloween a Fontana perché la loro manovra faceva paura lì qui c'è stato dibattito te lo dico io mi sono dissociato e ho detto basta queste buffonate te lo dico proprio in faccia Paolo e invece a me non piacciono quelle però ti sei divertito tu si mi sono detto vabbè comunque è divertente è stato un po' di dibattito il fine c'è ti racconto il retroscena ecco c'è un backstage non c'è stato permesso di dibattere degli aumenti sulle tasse su pannolini da tempo e assorbenti fatte dal governo Meloni e che regione Lombardia con un ordine del giorno negli anni passati si era impegnata a chiedere al governo di abbassare perché dovevamo discutere delle cartucce dei cacciatori allora dopo un po' mi sono stufato e quando la maggioranza non ti permette di parlare dei problemi dei cittadini l'unico modo per fare un po' di rumore a volte è fare un po' il buffone che è una cosa che non piace nemmeno a me ma ci portano diciamo come estrema razio a questo e lo vedremo anche a questo bilancio pensate che questo bilancio ha il minutaggio come peggio dei calciatori c'è anche senso c'è un tempo massimo in cui entro 24 secondi li fa canesto in cui i consiglieri possono parlare io penso avrò 3 minuti 5 minuti al massimo in tutto il bilancio quindi siamo 80 dobbiamo provare un bilancio che vale 30 e passa miliardi di euro per 10 milioni di persone ma abbiamo 3-4 minuti a testa per intervenire per scelta della maggioranza regionale e di fronte a questo capite che molto spesso l'unico modo per far emergere le proprie proposte è fare cose sensazionalistiche se si potesse discutere seriamente dei problemi delle persone e delle nostre proposte al bilancio così come delle loro non ci sarebbe bisogno ma la maggioranza la discussione non la vuole purtroppo e anche quest'anno comunque in tutti i bilanci si prenderanno decisioni per sfinimento perché alla fine è sempre quello il discorso non c'è un'altra modalità per sono le linee di indirizzo per il futuro è la cosa più importante che può uscire da un'aula e ci arriviamo sempre per sfinimento ma questa roba qua manda ai matti veramente vedremo come va allora buon bilancio grazie mille e buona radio a Good Morning Milano bene grazie mille allora al nostro ospite noi continuiamo ancora con un po' di musica ma poi comunque torniamo sempre qui per i saluti finali e sarà una lunga giornata per il nostro ospite oggi ho idea va bene andiamo avanti adesso con i Girls and Boys loro sono i Blur